Franco Spina, un altro presidio. Stavolta i lavoratori che non sono più in produzione, la cosa comincia a diventare veramente difficile. È molto complicata e molto difficile. Comincia ad esserci una rabbia sociale che ormai è lì per scoppiare, perché oltre alla questione zuccherificio, ne abbiamo tante altre realtà che nel frattempo hanno purtroppo e vivono purtroppo un momento di difficoltà. C'è bisogno di un coordinamento di tutte queste vertenze e stiamo provando come organizzazione sindacale a metterle su. Stiamo provando a mettere su un'azione che convinca il governo regionale a muoversi con una certa celerità nei confronti del governo nazionale. Questa è una crisi che non si affronta con gli strumentini che stiamo provando a mettere in campo. Si affronta semplicemente attraverso un'azione forte, dirompente in termini anche di investimenti e soprattutto di riqualificazione. A partire da quelle che sono le premesse che a suo tempo sono state fatte alla luce della chiusura dello zuccherificio. A questi lavoratori le premesse furono quelle di vi rimetteremo in gioco, vi rimetteremo in condizioni di essere appetibili sul mercato del lavoro, vi daremo la possibilità di autoimpiego e tanto altro ancora. Siamo qui a chiedere questa mattina per l'ennesima volta a che punto siamo. Visto che parliamo di un accordo che era a gennaio, siamo ormai a fine maggio e non si vede luce. Nel frattempo sta passando il periodo della cassa integrazione, gli ammortizzatori nazionali sono stati completamente smantellati. Dopodiché che succede? Allora qui c'è una necessità di accelerare, lo stiamo dicendo in tutte le salse, e bisogna cambiare passo. Questa è un'amministrazione che deve cambiare passo rispetto a una emergenza che è quella del lavoro. O si capisce che in questa regione si riparte solo se riparte il lavoro, se no non capisco qual è l'altro obiettivo della politica. Qualche giorno fa voi avete, come sindacati, scritto il Presidente dell'Aggiunta regionale per l'altro problema, quello dell'area di crisi complessa. C'è stata subito una riunione e che cosa viene fuori da tutto questo? A che punto stiamo? Sicuramente rispetto a una quindicina di giorni fa, almeno oggi, abbiamo il piano di riqualificazione industriale, il famoso PRRI, che da tempo era stato annunciato ma di cui nessuno era a conoscenza. Dopodiché ci sono degli elementi critici, noi abbiamo sollevato alcuni dubbi. Uno sulla dotazione finanziaria, l'area 181 che finanzia le imprese, a fronte di una richiesta, almeno sulla carta, di 1 miliardo e 600 milioni, a valere per 1 miliardo e 600 milioni, il primo finanziamento nazionale è pari a 15 milioni. Se queste sono le risorse, francamente faccio fatica a pensare che ci sia effettivamente un investimento che possa rimettere in moto l'economia. Dall'altro c'è proprio il tema degli ammortizzatori. Se per la ripresa delle attività produttive nell'area di crisi complessa, ma anche nelle aree di crisi ordinarie semplici, c'è la necessità di attendere almeno 2-3 anni, non può essere che gli ammortizzatori sociali non siano almeno di altrettanto 2-3 anni e che quindi vengono lasciati di volta in volta alla richiesta di un semestre o al massimo di un'annualità. Terza questione, c'è una battaglia da farsi rispetto alla riqualificazione personale. Noi siamo ancora fermi alla profilazione, gli stessi lavoratori dello zuccherificio ancora ad oggi non sono stati chiamati per essere profilati. Se non sappiamo la profilazione, come facciamo a sapere quante sono le persone che possono essere, ad esempio, interessate all'autombieo, che possono essere utilizzate come lavori di pubblico utilità, che hanno necessità eventualmente di essere accompagnati in un processo di riqualificazione. Se non riusciamo a fare queste cose elementari, questo abbiamo ribadito a quel tavolo, anche l'area di crisi, che era uno strumento fortemente voluto alle organizzazioni sindacali, avrà pochissime efficaci.